Mi chiamo Francesca, ho 25 anni e da tre anni scrivo sul mio blog Trilli Contro Schinchi, un incontro di due anime, una un po' più dolce, l'altra un po' più rock. Mi piace la moda, la seguo e la interpreto a mio modo, il blog racchiude tutte le mie passioni, in particolare il make-up e gli smalti, ma mi piace parlare anche di tendenze, di moda, dolci e fotografia. Il dualismo che caratterizza il mio blog si riflette anche nel mio modo di vestire, alterno abiti bonton in stile inglese all'animo rock in stile Rollistons. L'outfit che ho scelto oggi è perfettamente in linea con le tendenze di quest'anno, total black con dettagli in oro. Se dovessi descrivermi in una parola direi eclettica, una versione più chic di lunatica. La musica influenza spesso il mio modo di vestire, molti dei gruppi che ho ascolto li ho scoperti grazie alle serie tv, di cui sono una grande fan. Una delle mie più grandi passioni è la fotografia, trasmessa da mio papà. Con la mia Netflix mi diverto a creare giochi di luce utilizzando diversi obiettivi e filtri particolari. Sono una chiacchierona, ma il tempo è limitato, quindi se volete conoscermi meglio potete visitare il mio blog www.skinkifra.com www.skinkifra.com